Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi finalmente parliamo di Il buio oltre la siepe di Harper Lee, uno dei libri più belli che ho letto l'anno scorso, finalmente l'ho letto anche io. Visto che cercherò di chiudere questo video a effetto, vi invito fin da subito, so che sicuramente l'avrete già letto, a dirmi quale chiave di lettura avete dato all'intera opera. Praticamente a leggere questo romanzo mancavo soltanto io, viene descritto come un libro imprescindibile e intramontabile, è il libro preferito di Barack Obama, come si legge nella quarta di copertina dell'edizione Feltrinelli, che ho restituito alla proprietaria, ovvero Vale, di Book Addicted. Ciao bello! Secondo me questo libro rientra in quella magica categoria letteraria di libri che tutti dovrebbero leggere, ma non tanto perché è un libro che parla di razzismo e quindi è abbastanza attuale, ma perché è un libro con uno stile molto leggero e diretto, che davvero può arrivare a tutti anche con le sottotematiche di cui tratta. Infatti definirlo un libro contro il razzismo, in generale un libro sul razzismo, è sia fuorviante che soprattutto limitativo e ha fatto una bellissima analisi delle tematiche ala di ala books and manga, di cui vi lascio il video linkato giù in info box, perché secondo me l'ha scandagliato bene dal punto di vista contenutistico. Il romanzo è ambientato nel sud degli Stati Uniti e parla di questa ragazzina, Scout, figlia dell'avvocato della città, Atticus, che si troverà a seguire il processo di un uomo di colore usato in violenza verso una donna. E qui mi viene in mente un film che vi voglio consigliare, If Bale Street Could Talk, Se la strada potesse parlare, uscito di recente, tratto dal romanzo di James Baldwin. E questa ragazzina, Scout, con la sua arguzia, intelligenza e curiositas, segue le vicende del padre, che cercherà di scagionare, di salvare quest'uomo accusato ingiustamente. È un libro che parla tanto di ingiustizia, di inequality, che è forse la caratteristica, purtroppo, principale con cui viene denotato il sud, o meglio la situazione del sud degli Stati Uniti d'America. Si tratta di questa situazione molto delicata del sud degli Stati Uniti, con leggerezza e con uno stile diretto, uno stile che riesce ad arrivare a tutti, senza particolari virtuosismi, motivo per cui, dal punto di vista stilistico, questo libro personalmente non lo considero un capolavoro dell'ingegno. Però la letteratura, in fondo, secondo me è proprio questo, è la voce delle ingiustizie, è la voce del mondo. E questa voce di Harper Lee riesce ad arrivare a tutti. Poi lo si può considerare la lettura della vita o meno, ma sicuramente certe frasi, certi concetti, rimangono nella memoria letteraria collettiva e riecheggiano nella mente. La struttura del libro è divisa in due parti. La prima in cui abbiamo una panoramica molto immersiva della cittadina in cui è ambientata la storia, questa cittadina del sud degli Stati Uniti, e trasmette con la lentezza, con questa lentezza espositiva, una sensazione di closure, di chiusura, non soltanto geografica, ma anche e soprattutto mentale. Ed è in questo mondo che Scout e il fratello crescono. Scout sembra un po' la luce di questo mondo chiuso e buio, che riesce a illuminare, ripeto, con la sua arguzia, intelligenza e curiosità. Se anche il nome di Scout, il nome stesso, il soprannome Scout, è parlante. Scout significa... Scout rimanda subito alla figura di un esploratore che non teme il giudizio e il pregiudizio e continua la sua ricerca imperterrito. Infatti, Scout è un personaggio molto determinato, oltre che molto dolce, come lo è anche il padre Atticus. I dialoghi padre-figlia, proprio per questo motivo e per questa somiglianza caratteriale, risultano tanto commoventi. E proprio perché Harper Lee possiede uno stile diretto, sembra quasi che i consigli del padre di Atticus vengono dati direttamente, e non utilizzo questo avverbio in mente a caso, al lettore. La seconda parte, invece, è molto più veloce e anche più cinematografica, sotto un certo punto di vista, nel senso che adotto a uno stile più cinematografico. Penso ad esempio alla scena, senza anticiparvi nulla, penso ad esempio alla scena del processo in tribunale e ha una scena collocata verso la fine che porta velocemente alla conclusione, una conclusione non morale, perché tutti gli insegnamenti etici, se così si possono definire, vengono sapientemente disseminati in tutto l'arco della narrazione. E anzi, a volte non sono nemmeno palesi, ma si possono percepire. La virtù importantissima che insegna questo libro, o meglio, che arriva con maggiore impatto, è quella del coraggio. È una virtù che scarseggia, che scarseggia tantissimo in questi tempi, sembra che parlo come una vecchietta, ma mi guardo, semplicemente mi guardo intorno, e più che la bontà scarseggia il coraggio. Insomma, non il coraggio di compiere chissà quali grandi imprese, il coraggio di essere sempre sinceri, puri, leali, ma il coraggio che scaturisce dalla curiositas, dalla voglia di conoscenza, di conoscere, di essere degli scout, di illuminare la chiusura e il buio mentale, il buio oltre la sepe. Grazie. 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 Grazie.